Buongiorno, io sono Erika Pilar Pancella e lei è Eva Filoramo. Siamo le ideatrici del gruppo di lettura Il Fior di Farina e questo mese stiamo leggendo le lezioni americane di Italo Calvino. Per questo motivo siamo venuti davanti alla sede storica della casa editrice in Audi, luogo in cui Italo Calvino ha lavorato dal 1947 fino al 1961 per poi continuare con delle collaborazioni esterne. Per parlare delle lezioni americane abbiamo intervistato lo scrittore e traduttore dal russo Andrea Tarabbia che ha vinto il premio Campiello nel 2019 con Madrigalese in suono e il cui ultimo libro uscito nel 2022 è Il continente bianco. Andrea Tarabbia insegna scrittura e narrazione qui a Torino alla scuola Holden, però purtroppo non siamo riusciti a metterci d'accordo per fare l'intervista dal vivo. Per questo motivo abbiamo pensato di spostarci qui oggi a Plenair per farvi vedere un po' della nostra bella città. Buon ascolto. Allora, volevamo chiederti di raccontarci che cosa sono le lezioni americane e che cosa ne pensi? Allora, le lezioni americane sono l'ultimo progetto incompiuto di Italo Calvino che all'inizio non pensava nemmeno di chiamarle lezioni americane. Pare che il nome, la formula appunto lezioni americane sia stato un suggerimento di Citati, di Pietro Citati, con cui lui parlava di queste lezioni che avrebbe dovuto fare, negli Stati Uniti era stato invitato a prendere parte a queste Norton lectures, che sono appunto delle lectures, cioè delle lezio magistralis, probabilmente le chiameremmo noi, in cui vengono invitati nell'università americana alcune personalità mondiali, tra cui appunto Italo Calvino, per parlare sostanzialmente di quello che voglio. Viene data sostanzialmente carta bianca, è più di un secolo che ci sono le Norton lectures, sono dagli anni 20, nel 22 mi pare di ricordare, fu la prima e abbiano partecipato grandissimi intellettuali di tutto il mondo, mi viene in mente uno degli ultimi Oran Pamuk, per dire che so che le ha tenute, e sostanzialmente queste personalità del mondo della cultura vengono invitate, gli viene dato uno spazio, una romagna, per dire quello che gli pare su temi legati alla letteratura e al mondo contemporaneo. E di fatto poi la cosa molto bella di queste lezioni è che se uno le legge, insomma le mette un po' in fila, diventano tutte col passare del tempo delle lezioni di poetica, cioè Pamuk parla del suo modo di vedere la letteratura, di vedere i libri, e la stessa cosa voleva fare Calvino, con il problema appunto che morì, mentre prendeva ancora gli appunti per la sesta e ultima di queste lezioni, perché appunto le Norton lectures sono più lezioni, cioè mi viene invitato per qualche mese a stare negli Stati Uniti e a parlare appunto dei tuoi temi, ma non è un incontro solo, sono più di un incontro. Mentre Calvino preparava queste lezioni è morto, lasciando quindi le lezioni, non le ha potute fare, non c'è una registrazione, non c'è nulla, non ci sono delle prove, c'è solo questo plico, diciamo così, di appunti. E queste sei lezioni in realtà sono poi cinque più uno, nel senso che l'ultima che era dedicata al tema del cominciare e finire è in realtà una lezione rimasta proprio a metà, cioè che non ha completato. Ma in realtà non ha completato nessuna delle altre cinque, perché se uno legge le lezioni americane sono sostanzialmente degli appunti, alcune volte dei buoni propositi, cioè non è uno scritto, non sono cinque scritti fatti per essere pubblicati, rivisti, editati, eccetera. Sono proprio alcune notazioni, non so come dire, allo stato ancora grezzo, allo stato ancora da rielaborare, o magari sono semplicemente degli appunti, un canovaccio che lui voleva seguire per parlare a braccio al pubblico che lo avrebbe ascoltato negli Stati Uniti, questa cosa non la sapremo mai. Di fatto però questi, i testi delle lezioni americane non sono stati scritti per essere pubblicati, era una forma ancora, come dire, embrionale di una riflessione che lui voleva portare avanti davanti agli studenti. E sono cinque, ma a parte cominciare a finire appunto che non è completata, sono cinque note per il nuovo millennio, sono degli appunti per il nuovo millennio, è un'idea su cui poi io ho delle perplessità, ma per quanto riguarda la loro realizzazione, non tanto per gli spunti di partenza. Sono cinque parole chiave, cinque parole d'ordine, non so mai come definirle, attraverso le quali Calvino diceva forse possiamo leggere la nostra contemporaneità e forse attraverso queste cinque parole, attraverso la declinazione di questi cinque concetti, possiamo, come dire, avere cinque chiavi interpretative per il millennio che arriva. Le lezioni erano, qui ci stava lavorando nel 1985, quindi erano anni in cui, insomma, si era ancora pienamente nel Novecento, perché c'è chi dice che il Novecento è finito nel 1989, quindi poco dopo. Però, insomma, si parlava già, si era molto proiettati verso il 2000, io sono nato nel 78, nell'85 ero bambino, però mi ricordo che c'è, non so, anche la pubblicità, eccetera, si parlava tutte le cose del 2000, Lucio Dalla che faceva il motore del 2000 ed era la colonna sonora di una pubblicità di una macchina, cioè si parlava del 2000, il 2000 sarà tutto bello, tutto verde, tutto, saremo tutti felici. Poi è andata così, però Calvino aveva queste cinque parole d'ordine. Queste cinque parole d'ordine erano, le ho scritte in ordine, perché sono esattezza, sono, scusate, leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità e molteplicità. Quindi sono cinque parole chiave che lui esplora, lui entra in questi cinque concetti e raccontando sostanzialmente quello che a lui sembra di dover dire il rapporto alla letteratura, alla storia della cultura, declinate intorno a questi concetti. A me la cosa che ha sempre fatto abbastanza, come dire, mi impressiona una parola grande, è proprio l'inizio, cioè le prime sei, sette, otto righe di leggerezza, che è la lezione più famosa, quella di cui tutti parlano quando si parla delle lezioni americane, è che lui all'inizio, proprio nelle prime sette, otto righe, sembra quasi giustificarsi, dire voglio parlare della leggerezza, ma non perché intenda che io sia partigiano della superficialità, eccetera. E io ho sempre fatto questa riflessione, cioè nel 1985 io andavo al primo elementare, al secondo elementare, le cose serie, la letteratura, la filosofia, eccetera, eccetera, dovevano essere in qualche modo seriose, pesanti. Quindi uno che, anche alla fine di una carriera come quella di Calvino, deve parlare di qualcosa di leggero, deve fare una capitata di benevolenza, ci sembra quasi giustificare. Pensate adesso a 40 anni di distanza, 38, quanti ne sono passati, come sarebbe il contrario, no? Se facessi adesso una lezione italiana sulla pesantezza, dovrei dire no, però scusate, faccio l'azione sulla pesantezza, ma non voglio essere noioso. Assolutamente. E' come è cambiato il mondo, no? Nel giro di pochissimo tempo, perché poi, insomma, per quanto riguarda il pensiero e la letteratura, 40 anni non sono niente. Soprattutto 40 anni in cui, sostanzialmente 40 anni di pace, 40 anni in cui non ci sono stati enormi sconvolgimenti in Italia, no? E invece è cambiato tutto il mondo intorno. Cosa ne penso io delle lezioni americane? Ne penso molto bene e molto male nello stesso tempo. Ne penso molto bene perché mi piace moltissimo l'idea, benché sia un po' schematica, però, insomma, bisogna anche capire che erano, come dire, qualcosa che lui applica a delle lezioni che gli vengono chieste. Quindi è chiaro che è un po' come fece, non so, Nabokov quando fa le lezioni di letteratura russo, quando fa le lezioni di letteratura alla Cornell University negli Stati Uniti, fa la giornata su Jane Austen, la giornata su Gogol, cioè devi essere, insomma, un po' compagni di stagni devi farle perché sennò non riesce a preparare la lezione, ha detto molto bene. Ecco, mi piace molto che lui scelga dei concetti che non sono i soliti, cioè non sono le categorie dello spirito con cui la filosofia del 7-8-900 ha tentato di spiegare il mondo, ma siano concetti che hanno a che fare anche con la vita quotidiana, la visibilità, no? Nel 1985 era appena esplosa la televisione commerciale, era il trionfo del visivo, il drive-in, eccetera. Noi fa la visibilità ha declinato ovviamente su questioni legate a poesia, al come restituire ciò che vedi del mondo, tradurlo nei caratteri alfabetici, eccetera, però di fatto prende delle parole che sono delle parole normali, posso dire, quotidiane. Sì, sì, quotidiane. Rapidità, leggerezza, eccetera. E gli dà un'interpretazione che appunto parte da, non so, Lucrezio per arrivare a Gadda, per arrivare a Musil, eccetera, quindi dà un'interpretazione squisitamente letteraria, squisitamente legata proprio al pensiero letterario e in qualche modo, in modo insomma indiretto, dice che letteratura e vita centrano l'una con l'altra, no? La cosa che, quindi questa cosa mi piace moltissimo, così come mi piace molto anche che ci siano delle parole d'ordine, no? Queste cinque parole sono delle parole d'ordine in un certo senso, non sono obbligatorie, nel senso che non è che tutti dobbiamo seguire le cinque parole di Calvino, però l'idea che ci sia qualcuno che abbia detto stabiliamo delle regole possibili, no? Dei vettori possibili di ragionamento per gli anni a venire, a me piace, cioè mi sembra una, mi sembra un'intuizione, un'intuizione geniale. La cosa su cui sono un pochino più perplesso e più distante da quello che dice Calvino è effettivamente la realizzazione di queste lezioni americane, nella misura in cui sono, da una parte sono appunti, quindi ancora tutto molto allo stato grezzo, tutto molto, come dire, non sviluppato. Però in realtà la cosa che a me ha sempre fatto problema, e io le ho rilette anche recentemente, insomma queste lezioni, che è un libro su cui ogni tanto ritorno, perché insomma su Calvino ogni tanto ti viene chiesto di ritornare, no? Per lavoro, per questioni di formazione, eccetera, quindi ogni tanto è un libro che volente o non volente, insomma, devo riprendere in mano, dargli un'occhiata, riguardare gli appunti che ho preso nel forso degli anni, eccetera. Ecco, la cosa, ci sono alcune cose che non mi tornano in queste lezioni americane. La prima è fondamentale, è questa, che in parte contraddice quello che ho detto finora. Cioè io non ho ben chiaro che cosa sia per lui la leggerezza, che cosa sia l'esattezza, che cosa sia la molteplicità. No, forse la molteplicità è in realtà la cosa che ho più chiara. Cioè che cosa intenda, quale sia la definizione della parola chiave. Vuol dire se tu dai una parola chiave, dici questa qui è un concetto tramite cui io posso tentare di interpretare il mondo, o comunque insomma di dare un occhio alle cose che succedono e che succederanno. Deve essere chiaro, oltre ogni ragionevole dubbio, che cosa tu intenda per esattezza, per rapidità, per visibilità, eccetera, eccetera. Invece non tutte e cinque le parole sono, il concetto è espresso in modo così chiaro, così inequivocabile. Della leggerezza, Calvino dice che cosa non è. Non è pesantezza, non è superficialità, non è il passare veloce sulle cose, eccetera. Però non ti dice davvero che cos'è. Ti fa degli esempi, che sono ovviamente arbitrari, e sono tra l'altro non sviluppati, perché appunto siamo allo stato di abbozzo, non allo stato di appunto, quindi non c'è un ragionamento organico come lui aveva fatto, per esempio, non lo so, nei saggi di una pietra sopra, o nello stesso perché leggere i classici, no, il libricino Mondatori. Cioè lì fa alcune cose secondo me in modo molto efficace, in altre meno, come normale che sia, insomma, per tutti quelli che fanno questo tipo di operazioni. Però lì è sempre chiaro, no, quando parla del labirinto nella pietra sopra, è perfettamente chiaro che cos'è il labirinto, quando parla delle questioni legate appunto alle due culture, fa gli esempi da Vittorini, eccetera, scienza, letteratura, eccetera, è perfettamente chiaro che cosa si intende per scienza, cosa si intende per letteratura, e qual è la sua posizione nei confronti di questi due, come dire, aspetti del sapere umano. Sulle lezioni americane, in parte appunto perché siamo all'abbozzo, siamo all'appunto, io qualche dubbio ce l'ho. E se ho qualche dubbio di partenza, cioè mi devi parlare della molteplicità ma non mi chiarisci perfettamente bene che cosa è la molteplicità, io non ho l'appiglio a cui attaccarmi per capire davvero quello che stai dicendo, è quello che vuoi dire. L'altro problema legato più che al concetto delle lezioni alla sua realizzazione o mancata realizzazione è che sono un libro, lo leggerete, che difetta un po' di argomentazione. Di fatto è la stessa cosa che ho detto, però difetta un pochino di argomentazione nella misura in cui lui fa degli esempi che sono evidentemente sempre arbitrari, come tutti gli esempi che uno può fare nella vita, e questo è sacrosanto ed è giusto, cioè io vado a vedere le lezioni di Calderino o le lezioni di Nabokov perché voglio entrare nel loro arbitrio e capire qual è il loro mondo, quindi è esattamente quello che vado cercando quando leggo questo tipo di testi o quando vado a sentire delle lezioni magistrali, magistralis, eccetera. Non voglio una verità oggettiva, voglio la tua verità parziale. Io quando leggo un romanzo io cerco quello, cerco il mondo visto dallo scritto. È tutto quello, la parte come dire soggettiva è la parte fondamentale, però in un testo argomentativo io chiedo argomentazione. E invece ci sono molti esempi su Leopardi, su... a un certo punto comincia a paragonare per esempio un pezzo che mi ricordo, quando parla della molteplicità, lui fa tre esempi fondamentali, sono quattro, però a me ne sono rimasti tre. Beauvoir e Pecoucher di L'Oberto, L'uomo senza qualità di Musi e Il pasticciaccio di Gadda, che sono tre opere mastodontiche, tutte e tre, ciascuna per caratteristiche diverse, però tutte e tre, dice lui, opere che hanno, come dire, si pongono l'obiettivo di quella cosa un po' mallarmeana, che diceva tutto il mondo può finire dentro un libro. Ecco, queste sono opere che hanno tentato di raccontare tutto il dicibile, Gadda più forse dal punto di vista, come dire, linguistico e urbano, Musi più dal punto di vista del scientifico e della certa filosofia di inizio novecento. Flaubert è quello che tenta l'impresa titanica, cioè ogni capitolo del suo romanzo è un capitolo dedicato a una branca del sapere umano diversa, l'architettura, la letteratura, la poesia, la pittura. I suoi due personaggi studiano tutto lo scibile e provano a realizzarlo, ogni volta fallendo, quindi a ogni capitolo il progetto di diventare degli architetti fallisce, va bene, facciamo i pittori, studiamo tutto quello che c'è da studiare sulla pittura, facciamo quello, e diventa un catalogo di tutto il sapere umano, cosa evidentemente destinata a rimanere incompiuta ed evidentemente destinata a fallire, cosa di cui Flaubert non si è reso conto subito, ma a un certo punto, insomma, ha capito che non si poteva racchiudere tutto il mondo in quattrocento pagine, che poi magari diventavano quattromila, ma neanche in quarantamila, insomma, si può racchiudere tutto il mondo, quindi era chiaro che era un progetto fallito. Ecco, però, Calvino, quando parla della molteplicità, fa questi riferimenti, ma in realtà non li sviluppa, cioè non dice molto di più di quello che sto dicendo, io sto tagliando le cose con l'accetta, insomma, però non va molto più dentro rispetto a questo discorso e fa, tra l'altro, alcune cadute abbastanza facilone, insomma, no? Parlando di Gadda, del pasticciaccio, lo paragona, questo appunto, questo continuo proliferare di punti di vista, di voci, di vie narrative che si aprono, di possibilità linguistiche che si aprono virtualmente ad ogni riga, dice, lo paragona al principio di determinazione di Heisenberg, che no, e in generale alla filosofia, alla fisica quantistica e alla filosofia che dalla fisica quantistica è derivata, lo stesso Heisenberg, insomma, ne ha scritto, eccetera. Punto. Cioè, non ti dice perché. Non va dentro a spiegarti, cioè uno dice, ma allora io leggo un libro che è un continuo proliferare di roba, di spunti, di linguaggi, eccetera, invece, virgola, un po' come, adesso non la dice proprio così, però insomma il concetto è quello. Un po' come se ci fosse, Gadda applicasse alla letteratura il principio dell'indeterminazione scoperto da Werner Heisenberg. Quindi, a parte che io non so se Gadda conosce Heisenberg, immagino di sì, visto che era anche un ingegnere, eccetera, ma non so se lo ha studiato in modo così approfondito tale da decidere di tradurlo in termini, come dire, linguistici e letterari. Nelle lettere di Gadda Heisenberg, a quanto ne so io, non viene nominato, viene nominato molto di striscio, cioè non viene citato come il, come dire, la matrice di pensiero su cui ha basato il pasticciaccio. Quindi è una cosa che si è, che si è immaginato, che si è bene, perché questa cosa rientra nel concetto di arbitrio di cui parlavamo prima, della soggettività che io vado a cercare. Però mi devi spiegare perché. Perché se rimane semplicemente una suggestione, io ti potevo dire, vabbè, tu hai detto, come si chiama, per te il principio di indeterminazione di Heisenberg per me è l'Olanda di Cruyff. Perché io ho torto e tu hai ragione, anche lì non c'erano ruoli in campo, tutti i calciatori ricoprivano tutti i ruoli nello stesso momento della stessa partita. Allora di cosa stiamo parlando? Però il mio esempio vale come il tuo, cioè tu mi devi argomentare. E il problema, il difetto di argomentazione è un problema, secondo me, insormontabile dentro le elezioni. Perché, ripeto, non sono appunti, non sono state scritte, quindi probabilmente lui questa cosa, per esempio, di Heisenberg l'avrebbe sviluppata, l'avrebbe sciolta, eccetera. O magari pensava di farlo oralmente nel corso delle elezioni e non l'ha fatto. Cioè non l'ha fatto, povero Cristo, non ho potuto farlo perché è morto. Di fatto però quello che mi rimane e che mi viene presentato spesso, basta leggere gli articoli di Asor Rosa, di Scalfere che fecero i tempi, come la pietra miliare del pensiero, una delle pietre miliare del pensiero sulla letteratura del dopoguerra, comunque degli anni Ottanta, eccetera. E io questa pietra miliare non la trovo. Cioè trovo tante buone, buoni spunti, tanti buoni suggerimenti, trovo cinque parole guida, cinque parole chiave che mi interessano e mi stimolano la riflessione. Però a fine lì, cioè nel senso vorrei capire, vorrei di più, insomma. Mentre invece se leggo, appunto adesso prendo Nabokov o leggo Obrocki o... ma che ne so, le certe cose che ha scritto Danilo Kish sulla sua idea di letteratura, eccetera, posso essere d'accordo o meno. Con Kish di solito sono d'accordo, con Nabokov non sempre, però... però di fatto io vedo un oggetto compiuto, una riflessione compiuta, argomentata, poi posso dire va bene, non va bene, sono d'accordo, non sono d'accordo, qua sì, qua no, e quindi posso avviare un confronto, ma avvio un confronto su un discorso che è fatto e finito. E su Calvino invece questa cosa non si può fare. Detto questo, forse se lui avesse scritto, avesse avuto il tempo di scrivere qualcosa che di conchiuso probabilmente non saremmo qui a parlarne, non so, perché avremmo... o sarebbe stata una pietra migliare o magari saltava fuori che era una cosa abbastanza banale e quindi l'avremmo rubricata sotto l'ultima cosa che ha fatto Calvino, ma non la sua fondamentale, non ha detto niente di particolare e avremmo continuato a studiare i saggi di una pietra sopra che sono invece compiuti e definiti e che per quanto mi riguarda dicono di più sia di Calvino che della letteratura rispetto alle lezioni, ma non hanno il fascino delle lezioni, perché le lezioni sono l'ultima opera, ci è morto sopra e... Sì, poi forse anche il fatto che fossero incompiute. Ci dispiace un po', no? Povero Calvino che ha lasciato questa cosa su cui non ha potuto ritornare come... Sì, 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 no, ma infatti io dico il problema delle lezioni fondamentalmente al di là appunto di questa mancanza di argomentazione che però appunto potrebbe tranquillamente essere una questione legata al fatto che non ha avuto tempo di finirla, il problema vero è la loro ricezione, cioè il fatto che quelle parole lì siano ancora... cioè non quelle parole lì, che quei concetti che lui non sviluppa siano però ancora da molti ritenuti dei concetti chiave. Cioè, che esista l'esattezza, che esista la visibilità, la rapidità, eccetera, ok, ma le parti in cui lui parla di Stern, del Tristram Shandy, della rapidità, se ricordo bene, sono quattro righe banali. Cioè non è che uno può citare Calvino per parlare di Stern, perché ha detto le tre cose sulla digressione che tutti pensano quando leggono Tristram Shandy. C'è chi ha fatto degli studi su Tristram Shandy molto più approfonditi, molto più interessanti, molto più problematici, che però non viene citato perché uno quando pensa a Stern dice ah sì, ne parlava Calvino nelle lezioni, capite? Ma non ha detto niente nelle lezioni. Ma non perché lui non lo sapeva, perché non ha avuto tempo, solo che siamo... E poi quel pezzettino lì, che erano gli appunti, che poi sono rimasti congelati nel... È come se lui avessi messo un post-it sul frigorifero dicendo oh, parla di Tristram Shandy. Sì. Quello. Però noi c'è... Il post-it invece è diventato un simbolo di chissà che cosa. È un esempio a caso. No, 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 ma è bello l'esempio del post-it, rende bene l'idea. È quella roba lì, quindi insomma da qui poi si potrebbe fare tutto un discorso sulla crisi della critica, del pensiero umanistico, ma non lo facciamo. Ok, allora bene, veniamo, adesso abbiamo parlato dei contenuti. La seconda domanda che volevamo farti invece era più legata allo stile, perché ci interessava un po' capire, visto che tu oltre a essere scrittore sei anche insegnante, in particolare sappiamo che insegni presso la Scuola Holden di Torino. Ci chiedevamo quali fossero secondo te, secondo la tua esperienza, quali sono i vantaggi ed eventualmente anche gli svantaggi di frequentare un corso di scrittura. E poi, insomma, l'altra faccia della medaglia, invece quali sono i risvolti per uno scrittore che insegna? Che cosa succede? Cambia qualcosa poi nel suo modo di affrontare la scrittura in base all'esperienza di insegnamento? Non lo chiedo in generale, lo chiedo a quello che è successo a te, ovviamente. Allora, sulla questione del frequentare i corsi di scrittura, in realtà è una risposta molto difficile da dare, perché io di mio non ho mai frequentato un corso di scrittura. Posso dirvi che ho visto degli effetti positivi su molte persone, laddove con effetti positivi intendo che una delle cose che noi come insegnanti, insomma, possiamo fare quando abbiamo davanti delle persone, soprattutto se sono molto giovani, che vogliono scrittere, è aiutarli a diventare consapevoli, non solo della grammatica, della sintassi e di queste cose qua, ma anche che scrivere un libro non vuol dire semplicemente mettersi lì e raccontare la storia di Gigetto che si sveglia la mattina e esce di casa e incontra Mariana. E' il capire che questa storia qui, banale o interessante che sia, è una storia che si innesta su un sistema, che è il sistema letterario, che comprende millenni, che comprende centinaia di lingue e di... E quindi di riuscire a capire che chi scrive un libro entra a far parte, in qualche modo, di un'enorme catena, di un'enorme famiglia, che è la famiglia di coloro che hanno provato a raccontare il mondo se stessi attraverso la parola scritta. E quindi capire qual è il tuo posto come lettore prima e autore poi, e le cose sono strettamente collegate, perché tu sei un autore se sei un lettore, se non c'è uno del primo termine non c'è il secondo, capire come ti collochi nel mondo della cultura, cioè qual è la tua posizione come se fosse un'enorme mappa e tu devi sapere dove sei. Nel processo, che dura molto tempo, e che in una scuola come la Holden, che dura due o tre anni, dipende dal corso, puoi solo abbozzare, puoi solo cominciare, molti si perdono nella misura in cui capiscono che non è loro. E per me è una cosa anche molto positiva quella, cioè io ci sono persone che alla fine dei corsi mi sono venuti a dire guarda, io ho capito che non devo fare lo scrittore. Ed è bello tanto quanto vedere che poi ci sono invece degli allievi e delle allieve che invece poi pubblichano e vincono premi letterari. Insomma, sono due cose ugualmente belle, perché entrambi hanno capito che cosa vogliono fare nella vita e da che parte stanno su questa mappa. Quindi, da questo punto di vista, la scuola Holden e in generale i corsi di scrittura un'utilità, secondo me, ce l'ha. Così come hanno un'utilità nella misura in cui si aiuta delle persone che magari da sole non sarebbero in grado di farlo a sviluppare delle storie che sapevano di avere, perché ovviamente nessuno imbocca le persone. Cioè ognuno deve portare la propria storia, deve fare il proprio percorso, come dire, artistico e creativo senza venire imboccato. Però la cosa molto bella è capire qual è la cosa migliore per loro, capire insieme a loro qual è quel ramo della letteratura che li riguarda, indirizzarli su questa cosa qui e aiutarli a tirar fuori il loro talento nella misura in cui ce l'hanno. C'è una parte che non è assolutamente insegnabile che è appunto quella del talento. Cioè io ti posso dire, guarda, una scena dialogata funziona bene se ci sono due o tre elementi, ma poi quali sono, come collocare quei due o tre elementi, la scelta precisa dell'oggetto da mettere, della battuta di dialogo, quella lì è una roba che ha a che vedere col talento o meno e quello non si insegna. Si possono dare però degli strumenti, così come quando uno, lo so, va al conservatorio, insomma gli metti la tastiera del pianoporto davanti e dici, guarda, questo è il Do, se fai Do Mi Sol hai un accordo, se fai Re Fa Diez, eccetera, ne hai un altro. E poi però c'è Mozart e c'è quello che invece suona alle feste che compriamo dai figli, insomma. Quindi noi gli diamo degli strumenti e cerchiamo di capire... La parte più difficile e più bella è quella di cercare di capire qual è il talento, la versatilità, la possibilità di ciascuno senza che la tua presenza lo influenzi, lo direzioni. Cioè coltivare qualcuno facendolo venire fuori quello che è. Non so se è la cosa più difficile, però anche quella che ti dà davvero soddisfazione. Cioè quando ti arrivano poi magari dopo due anni ti scrivono una mail e ti dicono ma sai che quel libro là che tu mi dicevi che ero orrendo l'ho buttato e ne ho scritto un altro e domani esco con Editore X, quella è una cosa molto bella, insomma. Per quanto riguarda il contrario, allora, è molto difficile dare la risposta. Diciamo che insegnare ti costringe... è una sorta di mozione d'ordine, no? Cioè ti costringe a pensare ciclicamente in certi momenti dell'anno a certi temi, a certi argomenti, no? Quindi, non so, nel mese in cui racconti ai ragazzi, gli fai, non so, una panoramica della letteratura italiana del Novecento, ritorni sui tuoi quattro, cinque autori di riferimento che magari non avevi voglia di ripensare in quelle settimane lì, però ci ritorni, quindi te li rileggi, te li riguardi, eccetera, ritorni dentro quel mood che è un mood che ti ha sostanzialmente nutrito e formato, no? Quindi è come se ciclicamente ritornassi sulle cose che per te contano e questa cosa ti rende, da una parte, un conoscitore un pochino migliore delle cose che ti interessano e dall'altra ti costringe a ripensare a quelli che sono i tuoi temi, insomma, le cose che per te contano e sono importanti che per uno scrittore è un esercizio che non hai mai voglia di fare, di fondo, invece la scuola ti costringe a farlo e quindi lo fai, insomma. L'altra cosa che io uso molto e mi sono accorto in tempi relativamente recenti di farlo, lo usavo in modo inconscio prima, adesso invece sono un po' più, come dire, diabolico da questo punto di vista, cioè io spesso uso le lezioni, soprattutto quelle frontali, perché c'è parte di esercitazione, parte di workshop e parte invece di lezioni proprio frontali, eccetera, per testare delle cose che ho in mente, degli argomenti, delle cose, no? Io per esempio, adesso vi dico queste cose di cui parlavamo prima a registrazione spenta, una delle cose su cui sto lavorando in questo periodo è una serie di conferenze su un'attualizzazione della molteplicità di Calvino, quindi sto ragionando in queste settimane, sto studiando e sto ragionando su che cos'è la molteplicità oggi in rapporto alla letteratura di oggi, del 2000, diciamo negli ultimi vent'anni, insomma, sto prendendo come considerazione, che è un argomento di per sé sterminato e che quindi ha bisogno di essere tradotto, di essere declinato in 4-5 grandi vettori con 10 autori, 10 libri esemplari su cui lavorare, se no diventi matto, scrivi un'enciclopedia ogni volta che esci di casa. Ecco, io alcuni di questi concetti le ho portate in classe a Torino o altrove dicendo proprio ragazzi, io sto lavorando su questi temi, questi temi hanno a che fare con la letteratura nella misura in cui, e ho spiegato ovviamente perché, ho fatto delle letture, ho ragionato su dei concetti proponendo quali erano gli embrioni delle mie idee su certi argomenti, ovviamente in piccolo, anche perché poi magari è due ore, tre ore di lezione, che non è che puoi fare chissà che, hai la possibilità di fare una cosa perché venga fatta in modo deceno. E quindi laviri ovviamente sulla didattica perché ragazzi devi dare delle cose che poi si possano portare a casa al di là della riflessione, eccetera, però usi questi temi per appunto testare. E poi è successo, ma eventualmente in questo momento una cosa assurda, io avevo dato, ogni tanto do mi piace molto insegnare anche per contrasto, cioè a volte si fanno gli esempi, i modelli delle cose meravigliose, cioè quindi prendi, non che ne so, Sebald o, ma non lo so, cioè Chekhov, e dice, allora il racconto si fa così, bom, gli piazzi Chekhov, c'è tutto quello che uno deve sapere, ma mi piace anche molto fare questa cosa crudele, cioè prendere delle cose orrende. Sì, è utilissimo, è utilissimo. E quindi si fa perché sono delle lezioni divertentissime e perché si smonta proprio, cioè si fa proprio, diventa cattivi, eccetera, e poi ovviamente una volta che abbiamo smontato la cosa orrenda e ci siamo detti perché è orrenda, la riscriviamo bene, cioè la riscriviamo, tentiamo, tentano di riscriverla, di riscriverla bene. In particolare io lavoro su alcune scene standard, ormai che ho, perché sono scene che mi dicono qui va bene per le relazioni tra i personaggi, qui va bene per la gestione del tempo, quindi insomma un overo di scene da cui scelgo, di volta in volta, per somministrarle ai ragazzi. E fine. Pubblico l'anno scorso Il Continente Bianco, mi incrocia una mia allieva dell'anno scorso e mi dice, ma il primo capitolo del Continente Bianco, è la tua versione della scena orrenda che ci hai fatto fare due anni fa. No. E mi fa, ma come? Mi prende, aveva lì il libro, prende e fa, guarda, qui c'è e mi dice, questo è la, mi fa il gioco delle corrispondenze con la scena ed era vero, ma io non me l'ero accorto. Certo. e io ti giuro che non l'ho fatto coscientemente, cioè non sapevo di aver fatto questo. Però effettivamente è esattamente quella roba lì, cioè è quella scena, quella scena orrenda che io ho fatto riscrivere a loro, un anno e mezzo dopo l'ho scritta io senza, senza rendertene conto. Beh, quindi questo dimostra che insegnare influenza, sicuramente influenza l'attività di scherzo. Allora, diciamo, l'ultima cosa che ti dico, perché per non tirarla, insomma, troppo in lunga su questa cosa qui, perché non mi, è che in realtà la cosa buona dell'insegnamento, al di là appunto di queste cose, di queste corrispondanze che vi ho detto, è che se io facessi, lavorassi che insomma in banca, probabilmente sarei una persona più serena, anche dal punto di vista della partita IVA, che non avrei, cioè avrei tutta una serie di bonus che non ho, però per almeno otto ore al giorno non penserei alla letteratura. E invece, insegnando anche in queste scuole di scrittura creativa, tu sei costretto a vivere sempre dentro i libri, che è una maledizione da una parte, ma è una benedizione dall'altra. Nel senso che io, la mia vita consiste nel tentare di cercare delle fonti di guadagno, ovunque, però dentro il mondo dei libri, sempre, quindi che sia insegnamento, che sia, e restituire poi ai ragazzi le cose che io ho imparato, o continuo a imparare studiando, eccetera eccetera. In realtà, faccio fatica a considerarlo un lavoro, perché è dentro questo flusso, che finora mi ha permesso di, come dire, di sopravvivere, pensando sempre, non dico la molteplicità, eccetera, però ha dei suoi equivalenti, ecco, le sue, quindi in realtà la grande bellezza per me dell'insegnamento, al di là appunto di quello che può essere il rapporto con loro, le cose che effettivamente dai, o il fatto che poi scrivi una scena che non sapevi di, cioè non ti ricordavi di aver dato a loro, quindi insomma, però è proprio questo, non vuol dire che sei dentro questa bolla, no, questo mondo che è fatto di libri e di riflessioni sulla letteratura e sulla lettura, che è un nutrimento continuo e senza nessun tipo di sforzo, nel senso che è tutto molto fluido, molto logico, non so se risposta. Sì, sì, molto armonico. Quindi questa cosa mi piace, a volte è frustrante evidentemente, perché ti senti che non esci mai da questa cosa qui, però ha il suo risvolto molto positivo, per cui per esempio appunto per fare la bibliografia di questa conferenza, di questa conferenza che dovevo fare sulla molteplicità tra pochi giorni, ci ho messo mezz'ora, perché era certo. Sì, era lì. Sono lì, capito. Invece per tornare alle lezioni americane, volevamo chiederti quali potrebbero essere le tue parole per il millennio, se hai mai pensato. Ce ne basta una, anche una o due. al di là del fatto che il prossimo millennio mancano novecenti. No, no, pensiamo a no. No, per questo, questo, dai, questo millennio qua, il millennio a cui si riferiva, no, il millennio a cui si riferiva Calvino. No, allora, guarda, è molto difficile in realtà, cioè io, non vi nascondo che è una cosa a cui sto pensando da qualche settimana. Allora, io credo, anzitutto, che ci sia una delle parole di Calvino che vada corretta, cioè oggi non si può più dire molteplicità, si deve dire complessità. Secondo me è una parola più chiara, più completa rispetto alla molteplicità. Cioè, nel 1985 la molteplicità aveva senso, adesso no. Adesso con l'intelligenza artificiale, con con tutte le certe questioni di filosofia della scienza che sono ormai entrate nel discorso letterario quotidiano, eccetera, il mondo è molto più organicamente raccontabile sotto un termine che è quello della complessità e non e non e non la molteplicità. Un'altra parola, secondo me, che poteva andare bene già negli anni Ottanta e va molto bene. Adesso è qualcosa che non so se dire in incompletezza, insomma, però qualcosa che ha a che vedere con il non finito, no? Il concetto di non finito in realtà è un concetto che c'è da sempre, no? Nella storia dell'arte, no? Il mito delle rovine per i romantici, che ne so, i prigioni di Michelangelo, no? Che sono ancora mezzi fatti. Quindi è una cosa che David Hockney in Inghilterra, insomma, è tutto, è un concetto che c'è sempre stato, che è stato molto sviluppato soprattutto nel novecento adesso, fino ad adesso, ma adesso, come è, con la non finitezza, appunto, l'incompletezza, è una declinazione nuova del nostro stare al mondo, no? Perché noi abbiamo costantemente a disposizione, ed è una cosa che abbiamo da dieci anni, quindici anni, prima non c'era, abbiamo qui, anche solo qui, l'enciclopedia del mondo. Quindi noi abbiamo accesso a qualunque cosa, adesso non voglio dire bello, brutto, alienante, non mi interessa, questa cosa qua ci dice che abbiamo accesso ad una complessità e ad una totalità che da un certo punto di vista dice che noi non siamo degli individui totali, siamo incompleti, abbiamo continuamente bisogno di affendici che ci dicano cosa dobbiamo fare, come... Questa cosa qua, non so se sia bella o brutta, però è la nostra condizione, cioè la nostra condizione di essere, di esserci accorti in modo diverso, un secolo fa ci siamo accorti di essere degli individui incompleti, incompiuti, perché ce l'ha detto Freud, no? Adesso ci accorgiamo di essere degli individui incompleti, incompiuti, perché ce lo dice internet, perché noi non sappiamo più le cose, questa cosa qui è una grande ricchezza ed è un grande, è un modo possibile secondo me per leggere il presente e per il futuro, cioè noi siamo incompleti, rendiamocene conto, è bellissimo, perché abbiamo un'enciclopedia a disposizione nella tasca che ci può aiutare non a completarci, ma ad avere l'illusione della completezza, questa qui è una cosa molto... che io sento molto viva e la sento in modo positivo ma non la sento in modo negativo, mi sembra uno stimolo. Quando l'hai detto in completo, hai fatto vedere il telefono, a me è venuta in mente un'immagine leggermente diversa, nel senso della nostra incompletezza, ho pensato quando ricerchiamo le cose sul telefono che è un processo che non finisce mai, cioè incompleto in questo senso qui, che siamo sempre alla ricerca di qualcos'altro, mi è venuta in mente una concatenazione di informazioni a cui non ci porterà mai a un punto di arrivo. Se ci pensi, anche questa cosa qui è una cosa in realtà di cui si parla da tantissimo, perché è di fatto l'ipertesto di cui parlavano già i francesi negli anni Sessanta, da un omberto, ecolo, opera aperta, cioè è quella roba lì, non è una, come dire, abbiamo degli strumenti e delle tecnologie diverse e a disposizione di tutti per ragionare su quella roba lì. Il problema c'è, c'è da, c'è da sempre stato, in realtà, se ne sono accorti negli anni Sessanta, mi hanno cominciato a ragionare negli anni Sessanta, continuiamo ad avere questo problema, abbiamo delle, degli strumenti nuovi, delle declinazioni nuove per poterlo affrontare o per poterci perdere dentro. Che va bene però, cioè, uno può anche, sai come quando si dice, no, l'unico modo per visitare Venezia è non avere la mappa e perderti. Va bene, cioè l'importante è accettarlo e l'importante è sapere tornare indietro. Per chiedere aiuto a qualcuno, se proprio... Sì, qualcuno ti tirerà su, insomma, però appunto è capire, è essere, come dire, consapevoli dell'incompletezza e quindi poterci in qualche modo giocare. E questo fondamentalmente, poi sono tutti collegati, mi viene in mente un'altra cosa, potrebbe essere il rapporto tra realtà e finzione, che non so come come declinarla, bene, quale potrebbe essere la parola per, ci dovrei pensare un po', però anche quello, no, che cosa è vero, che cosa è falso, non solo per le fake news, insomma, per la difficoltà oggettiva che abbiamo di leggere il mondo contemporaneo, no, perché, e ce l'abbiamo non perché è un mondo pieno di segreti come era pieno di segreti nella guerra fredda o era pieno di non detto, no, noi pensiamo in un paese cattolico, cioè dall'inquisizione in poi è tutto non detto, no, cioè noi siamo fondati sul non detto l'omertà, no, di questi concetti qui, poi abbiamo vissuto 50 anni di guerra fredda, insomma, c'erano delle cose che è tutto fondato su cosa si può dire, cosa non si può dire. in realtà adesso secondo me è cambiato il paradigma, cioè il paradigma è non più che cosa noi non sappiamo, ma è che cosa possiamo scegliere tra il troppo che ci viene proposto, quindi che cosa è vero che cosa non è nel troppo, non nel nascosto, non so se certo, cioè se è chiaro, se riesco a spiegarmi bene, no, abbiamo a disposizione tutto o quasi tutto, perché poi non lo sapremo mai effettivamente, e quindi il problema è selezionare il materiale, ecco forse selezione è la parola, no, cioè capire come trovare il buono, il giusto, il bello, il vero, non so come dicevano quelli, dentro una cosa che propone il bello, il giusto, il buono, il vero, ma propone altre milioni di cose che sono a volte anche più facili e più carine rispetto al vero e al buono, ecco, e quindi selezione è una parola che non è, non suona bene come rapidità, però è una parola fondamentale, no, capire questo sì, questo no, insomma, cioè fare delle scelte per poter tracciare il proprio percorso e la propria mappa, è grosso modo questo, sono in realtà sono tutte diversi modi per dire la stessa cosa sostanzialmente, no, cioè per trovare un orientamento laddove un orientamento non c'è, e io credo che la letteratura, quella perlomeno europea un po' interessante, stia tentando di rispondere a questa cosa qui, cioè, non so, se segui, vedi della Tocarciuk o di Gospodinov o... ce lo sto leggendo adesso in anteprima il nuovo libro di Alexander Eamon che uscirà credo settimana prossima perché faccio una cosa con lui a Book City a Milano e anche lì sono tutti libri in cui la forma, si spezza, si spacca, ci sono tanti modi di raccontare lo stesso fatto, di ritornare, eccetera, che sono tutti dei sistemi degli artifici stilistici e formali per restituire una complessità che altrimenti è irriducibile, è irraccontabile, no? Lo Spodinov che dice io scrivo Crono Rifugio che è questo libro bellissimo, intelligentissimo in cui tu vai nell'albergo del tempo c'è il piano degli anni sessanta, il piano degli anni settanta, il piano degli anni ottanta dove il mondo, l'atmosfera in quei posti lì sono ricostruiti in modo da farti sembrare di vivere negli anni sessanta, negli anni settanta bulgheri, no? Adesso quando me l'ha parlato Pilar mi ha detto l'ho preso però adesso che ne hai parlato così dobbiamo imparare a raccontarli meglio i libri Pilar perché adesso mi è venuta voglia di andarlo subito a leggere. Ma è quella roba però l'ho detto che era bellissimo. La cosa meravigliosa è che Gospodinov gli chiedono ma come ti è venuta questa idea? Cioè fa questo albergo a Zurigo assurdo, poi ci butta dentro i personaggi, ci butta dentro le assurde biografie, c'è un crogiolo di cose che succedono senza un vero filo narrativo e lui dice questa roba io mi sono accorto lui è dal sessantanove se mi ricordo bene dice io mi sono accorto quando è caduto il mondo che io e quelli come me non abbiamo avuto un passato perché ce l'hanno nascosto. Io ho capito nel 91 che cos'era successo negli anni 70 ma negli anni 70 io ero vivo perché avevo 10 anni nel 79 quindi ho trovato una chiave di lettura del mondo del mio mondo della mia infanzia della scuola dei rapporti familiari eccetera 20 anni dopo averli vissuti perché? Perché il passato a noi ce l'hanno inscatolato ce l'hanno preconfezionato ci hanno detto dovete pensare così no? Allora cosa ho fatto? Tutto quello che io sto facendo adesso è tentare di recuperare il tempo perduto che già anche quello c'è chi lo fa quindi recuperare il tempo il tempo perduto rivivendo una vita che non ho vissuto no? in un certo senso e quindi trovando degli escamotaggi con una consapevolezza diversa esatto e trovando degli escamotaggi formali e narrativi che mi permettano di riandare in un mondo in cui avevo 5 anni e non capivo nulla prima perché avevo 5 anni e poi perché non era possibile capire nulla perché non c'era non avevo le chiavi per leggere per leggere il mondo tutto questo io lo posso fare solo ed esclusivamente a frammenti perché non ho una storia continua no? ho dei pezzi dei baglioni di ricordi delle cose e non posso ricostruire in un unico in una totalità armonica qualcosa che io ho capito adesso che non ho vissuto allora devo ricostruirla per frammenti e quindi faccio libri per frammenti in cui ci metto autobiografia personaggi fettizi robe parasaggistiche sogni eccetera non posso raccontare il mondo in un altro modo perché nella mia testa io non ho una totalità o un casino e quindi devo restituire questo casino allora uno che ti dice così dici vabbè basta io compro tutti i libri cioè possono essere brutti ma io ti compro e ti leggo perché cioè è un progetto narrativo pazzesco e tanta letteratura logato carcioco uguale se leggete anche solo i vagabondi insomma è quella roba lì poi può essere meno piacevole da leggere perché uno dice aspetta ma cosa che mi stai raccontando rispetto che ne so vabbè la differenza di peso specifico e di grandezza e di progetto narrativo che c'è in una roba come quella di Gospodino rispetto a uno che ti racconta una bella storia e la letteratura sta facendo questa cosa quella buona e ma basta questo vabbè adesso tutti a leggere o a rileggere per me è la prima volta crono rifugio assolutamente no no crono rifugio ti sbarella però se lo leggi con questa chiave di lettura che poi ha dato lui dietro cioè è un universo mi spiace Pilar di non averti dato subito immediatamente come avrei dovuto fare quando me ne hai parlato chiedo perdono va bene allora grazie mille di questa intervista a voi a voi grazie mille ringraziamo ringraziamo te e ringraziamo i partecipanti pochi e le partecipanti maggioranza del del gruppo di lettura e il fior di farina a presto allora buona giornata ciao grazie grazie mille